Noi crediamo che le diverse culture su questo pianeta hanno un valore uguale e che noi credendo che questi sono un valore, la base della nostra vita insieme su questo pianeta noi dobbiamo andare sempre più forti avanti di cercare di trovare i punti di incontro e non i punti di divisione. E in questo senso voglio dare il benvenuto a Daniela Papadia, un'artista che proprio ha lavorato da sempre su questo tema di mettere le persone insieme. Daniela Papadia, grande artista. Tu l'hai fatto ora in un luogo dove nessuno va proprio per il suo piacere e dove ognuno va perché ha fatto qualcosa che non l'ho portata in questa direzione. Tu lavoravi in un carcere. Dal filo della vita al destino, al filo del pensiero, ai nodi, ai vuoti della memoria del nostro DNA che ci dice che siamo unici ma anche simili. Che ogni gene è un mattone con cui la natura costruisce la vita. I mattoni possono a volte formare dei muri. Ma ogni muro è una porta. Sì, è stata proprio una scelta. Nel senso che indipendentemente poi dal giudizio del personale che uno può avere rispetto agli sbagli. Ovviamente se sono lì qualcosa l'hanno fatto. Ma è proprio da lì che secondo me bisogna cominciare. È proprio dei luoghi tristi che bisogna, anzi soprattutto lì, portare. Io ho visto, nella mia esperienza, adesso questo è soltanto un promo piccolissimo, però che queste donne, che sono ragazze, anche giovani di diversa nazionalità, attraverso l'arte, attraverso il ricamo, attraverso anche il mio racconto, perché io sono stata quattro mesi con loro, cioè giornalmente, hanno avuto anche una grande trasformazione. E laddove porti arte, o comunque appunto, anche la persona più dura riesce a trasformarsi. E lo giusse io, quando è insieme, come si riguarda, questo è solt'ona, mi senti, guarda, io mi senti la simulazione della cose. Und io potrò che io andiamo chiedere, molto prima per l'ho, anche in una speciella vecchia per la finestra, quelle per la McCarthy. Chi l'ho ne ha, per l'ho, mi senti, ho a lui e un porti. Mi senti a tutti, con il mio amore, e uno familiarizzato di Tirol, perché noi andiamo in una vecchia vecchia tagliata. Sassate un po' di Sene subito, Lasci anche un po' di segno in te. Tutti tutto bene, è piaciuto, è bello. Non devi sempre essere hecchi e sempre. Ulrike, cosa ha dich dato bewogen, un film di Hansi Hintersia a fare? Cosa era la tua inspirazione di fare un film su Hansi Hintersia, questo Alberto Tomba cantante? Abbiamo quasi di questo evento, in cui abbiamo già già visto. Allora, loro dalle media hanno sempre saputo di questa stranezza che qua 10.000 persone vanno sulla montagna a seguire Hansi Hintersia e guardarlo mentre lui cammina e canta. E loro volevano andare a proprio guardarselo con un occhio diverso, né questo troppo vicino da lui, né questo troppo vicino ai fan, però proprio di seguirlo con la camera quasi messa là soltanto a guardare. E questo ce lo vediamo ora e poi noi dopo siamo qua se ci sono delle domande. A presto! 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 A presto!